Ciao a tutti, sono Marco88 e ci troviamo in compagnia di... Mazzetess! Sempre in ritardo, eh, di due o tre secondi sempre... Ma anche tu, eh, sei sempre in ritardo! Forse pensiamo troppo alle donne. Cioè, dici, nel frattempo che parli... Uno si sta facendo già dei treppi mentali. Delle ulchesse donne. Parcheggiamo qua, però, magari. No. Ah, vuoi andare in là? Sulla ferrovia? Sì, guarda che figo è sto ponte. È un po' spiaccicata sta ferrovia, però. Non è tanto bella. E tu, dobbiamo andare nella zona militare? Oddio. Ragazzi, io inizio a paura! Io inizio a paura. Oddio, che schifo, però. Ha paura. A pollare. A pollare. Siamo arrivati. Ok, la parcheggia, parcheggia. Parcheggia. Dove facciamo? Come facciamo a trovare il parcheggio in questa zona qua? È tutto desertico, non ci sono le strisce blu, le strisce bianche. Mi sento disorientato. Ma da un piccolo campetto non è niente di che? Non c'è niente, infatti. Ma siamo venuti qua per... Ci sono degli zombie? No. Io controllo a sinistra, tu controllo a destra. Siamo ancora nella zona... Nella zona militare? Salva. Nella zona militare è dall'altra parte. Dopo andiamo sul ponte nuovo, che ci porta direttamente. Penso di no. Sacca a pello nero. Non mi serve. Ma ho detto che controllo io di qua. Una maglia, mi serve. Non l'avevi già la maglia? Sì, ma la scrafto per fare delle bende. Anch'io ce l'ho un sacco di bende. Oh, questo mi serve. Mirino laser. Vediamo un po' come viene ficharrimo il mio fucile. E qui... Sì. Ah, ma dobbiamo continuare, perché qua siamo ancora sull'isola di passaggio. Marco! Mi sento solo! Andiamo a prendere la macchina che era buggata e senza ruote. LOL. Cioè, appaiono i dettagli così, tipo... Mi avvicino. Sto arrivando con la macchina. Ecco... Ti sei rotto le gambe. Sì. L'unico cosa per riparare le gambe l'ho già usato. Vai. Vabbè, tanto torna a posto dopo un po'. Devi... Fammi guidare a me che ci andiamo. Ma dice di continuare dritto per la Dead Island. Guarda la mappa. Stiamo andando... Stiamo andando alla Desert Mine dall'altra parte. Ah, ma volevi controllare un altro posto? No! Guarda la marea! Il bagnasciuga! Spettacolo! Ho detto che andavamo nella base militare dall'altra parte. La Desert Mine... Vedi che cazzo... Ah, ok, vabbè. È cambiata. Sì, ma dovrebbe esserci anche una... Ok. C'è la base del... Della Air Force. C'è la base... Esatto. Della RAF. Come si chiama? L'aeroporto. Scusami, stavo pensando alla vecchia matta. La vecchia matta. La vecchia matta. La vecchia matta. La matta. Esatto. Mi stavo immaginando te che facevi delle fantasie erotiche su una vecchia matta. Sì, sulla matta dei gatti dei Simpsons. Certo. Uh. Cose scabrose scopriamo del nostro Marco. Ma se io... Scusa un attimo. Se io seguo la... Proseguila. Proseguo su questa... Ferrovia dove mi porta? Dove dobbiamo andare, quindi seguila. Non vedi che c'è un mega ponte che ci va direttamente? Guarda, cosa c'è questo? Ah, qua c'è... Ma possiamo prendere il treno? No. Aspetta, però possiamo fare benzina. No, io volevo questo. Volevo questo. Tanto... Ah, ma non è un... Vuoi una pistola? No, non ricarica qua. Vabbè. Vuoi una colta? No, grazie. Attiro solo gli zombies. Ah, però potrebbe essere comodo contro... Contro... Gli... Hulk. Mi fermo qua. Sai che si può sparare? C'è la dogana? Sai che si può sparare mentre si guida? Fermiamoci a controllarla. Buongiorno. Non ho niente da dichiarare, ma volevo solo aprire il... Non posso aprire il passaggio? Porca, dico la miseria. C'è una partita a scacchi qua. Mi scusi. Ah, hanno buttato lo stop nel bidone delle immondizie. LOL. Che trasgressivi proprio. Transgression 1-1. Sto morendo di fame e di sete. Eh, dobbiamo andare. Io non ho niente. Ah no, ho da bere. Ho da bere. Aspetta che ho da bere. Anch'io ho da bere per quello. Ok, però sto morendo di fame. Perché col... 18% di fame. LOL. LOLILO. 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 A quanti minuti siamo arrivati? Siamo arrivati a quasi 6 minuti, ma possiamo tagliare. Tagliamo. Cavolo. Perché se no non succede un Kaiser di niente. Cos'è quello schifo? Fermo, fermo. C'è una affare in mezzo al mare. Cos'è quello schifo? Questa puntata la chiamerò così. No, sono caduto in acqua. Ma io sono cattivo, quindi guarderemo questo schifo nel prossimo episodio. No. Quindi, prossimo episodio. Schifo e base militare. Da Marco88 e Mazzetess. Penso. Mazz, ci sei ancora? Sì, ci sono ancora. Ma non riesco a salire qua. E neanche io. Hai fatto un po' male. Oh, ma qua ci sono le scalette. Eh, ma come faccio a salire qua? Oddio. Io non riesco a salire. Neanche io. Ah, sono salito. Da dove? Da qua. Quindi da Marco88 e... Dai, saluta! Ma voglio salire! Saluta! Ciao! Va bene! E' tutto! E' tutto! Grazie a tutti.